Conferenza stampa questa mattina a Campobasso da parte del comitato molisano per Ellie Schlein. Proprio a Campobasso, dove la Schlein ha ottenuto il maggior numero di preferenze, ne parla Alessandra Salvatore, no eletta per il Molise all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Da Schlein comincia il rinnovamento del PD. Lo spartiacque in questo momento nella politica italiana, l'elezione di una segretaria che ha 37 anni, la prima segretaria del Partito Democratico, pensiamo che possa ragionare e parlare alle nuove generazioni, oltre che a tutto il mondo del centro-sinistra che si sta ricompattando attorno a lei. Si sente un'energia nuova che Ellie sta convogliando su quelli che sono i temi che interessano cittadini e cittadine italiane, a partire da quello del regionalismo differenziato. Uno dei punti che da subito ci ha convinto, la sua contrarietà al DDL Calderoli, sta incontrando le parti sociali, i sindacati, gli altri rappresentanti dei partiti dell'area progressista, del campo progressista, sui temi, temi come questo, quindi quello della coesione del paese, quello dello sviluppo che deve partire dal sud e dal meridione. E quindi lotta e contrasto al DDL Calderoli, questo è uno dei temi caldi, questo è uno dei temi su cui l'area progressista di centro-sinistra sta riaggregandosi e pensiamo che sia questa la modalità. Autonomia differenziata, un elemento negativo proprio per le fasce deboli? Sono tanti gli elementi negativi, le criticità del DDL, c'è un documento ANCI, ANCI rappresenta più di 8.000 sindaci di tutti i colori politici, il documento esprime fortissime perplessità, individua le criticità, anche le invasioni di campo rispetto a quelle che sono competenze proprie degli enti locali, di comuni e città metropolitane nello specifico, ma al di là di questo parte da basi e presupposti che per noi sono inaccettabili, idea che il paese già diviso e già caratterizzato da disuguaglianze forti, sociali e territoriali, possa ulteriormente subire rispetto al discorso della omogeneità, della fruizione dei servizi e dei diritti fondamentali. Da oggi parte la raccorta firme di contrarietà al DDL Calderoli, firme che saranno portate all'attenzione di Erlich Lein e del governo italiano.